Per chi non ha seguito il nostro lungo pomeriggio in cui vi abbiamo raccontato questa giornata tutta dedicata alla politica e a questo confronto, duello che è avvenuto in diverse sedi tra Monti e Berlusconi naturalmente tutto questo ve lo racconteremo tra poco nel nostro telegiornale una mattinata intensa che si è aperta questa mattina alle 11 con la conferenza stampa di Monti la conferenza in cui il Presidente del Consiglio ha di fatto lanciato la sua agenda per l'Italia molto attesa naturalmente la partecipazione del Premier se scendeva o non scendeva in campo un termine che poi il Premier ha contestato e sostanzialmente Monti ha detto questo è il mio programma, queste sono le linee guida, è la mia agenda, sono disponibili per chi ci sta e da lì poi si è aperto uno scenario interessante ma è stata una conferenza stampa in cui il Premier ha riservato parole molto molto dure per Berlusconi ma anche per la CGL e anche per Vendola insomma nell'arco della giornata si è composto un quadro politico che vi racconteremo tra poco perché? Perché poi c'è stato anche Berlusconi in questa giornata, c'è stato un Berlusconi che è intervenuto prima in Rai alla trasmissione di Giletti che ha riservato anche dei momenti di tensione diciamo così di scontro, di difficoltà di comunicazione, Berlusconi ha parlato di un complotto del solito complotto mediatico giudiziario nei suoi confronti e poi ha affrontato molti altri temi poi dopo Berlusconi ha fatto anche una conferenza stampa per ribattere in qualche maniera a quanto aveva detto Monti questa agenda per l'Italia lanciata da Monti dunque ha dei punti ben precisi bisognerà capire adesso chi ci sta, chi aderisce naturalmente le parole più attese riguardavano il centro, quell'area di centro, quel rassemblement dove appunto si trovano Casini, Montezemolo per capire gli stessi centristi aspettavano una parola di chiarezza da Monti, si candida, non si candida, scende in campo insomma adesso si è creato questo ombrello, è stato così definito naturalmente Montezemolo ha detto noi ci siamo Casini ha parlato di un intervento di grande serietà e di grande concretezza e poi naturalmente c'è anche il partito democratico con Pierluigi Bersani che dice sono state parole di grande responsabilità quelle di Monti però adesso occorre dare la parola agli elettori perché c'è bisogno di una maggioranza decisa, netta, sicura e non di una maggioranza strana come è stato evidentemente fino a questo momento una maggioranza salda, coesa, riformatrice e presente naturalmente anche in Europa poi appunto vi dicevo ci sono moltissime reazioni perché la giornata politica in gran parte è dedicata a questo e naturalmente però insomma nel telegiornale poi ci occuperemo anche di altro a cominciare dalla Siria dove c'è stato un raid aereo e sono morte più di 90 persone poi naturalmente parleremo anche di spending review perché su questo finale di legislatura poi tante cose, tanti tagli ai costi, agli sprechi che questo governo aveva fatto alcuni sono rientrati come nel caso della sanità del Lazio perché il Tar del Lazio ha di fatto bocciato quei provvedimenti, quella spending review le multinazionali, i fornitori hanno fatto ricorso e quindi vedremo che cosa invece tornerà a costare e a costare parecchio. Allora cominciamo a vedere insieme i titoli Nella conferenza stampa di fine anno Mario Monti si rende disponibile per fare il premier con quelle forze politiche che sosterranno la sua agenda per cambiare l'Italia e riformare l'Europa a fine conferenza aggiunge, mi sembra di aver fatto un passo in avanti gigantesco Molto forte la polemica del premier con Berlusconi, fatico a comprendere il suo pensiero il cavaliere reagisce, io sempre lineare, un nuovo governo Monti sarebbe un incubo poi negli studi Rai minaccia di andare via perché è interrotto troppe volte dal conduttore ma resta e promette ancora, toglieremo l'Imu al primo consiglio dei ministri Il leader del partito democratico apprezza le parole serie del premier ma Bersani avverte che ora bisogna preservare quel che si è fatto di buono e fare quello che non si è fatto fin qui per questo dice serve una maggioranza vera e coerente e ora che la parola torni agli elettori Dai centristi pieno sostegno all'agenda Monti per Montezemolo è ora di dire basta demagogie, bisogna guardare al bene del paese dice il presidente di Italia Futura Casini auspica un impegno diretto del premier mentre per fini le linee guida di Monti sono l'alternativa alla sinistra e al populismo anti-europeo di Berlusconi Orrore in Siria per un nuovo massacro di civili nella città di El Faya sediata dall'esercito di Assad si contano almeno 90 morti dopo un raid aereo del regime l'obiettivo era un panificio davanti al quale si trovavano in coda un migliaio di persone fra cui anche donne e bambini Allora di nuovo buonasera una lunghissima giornata che è iniziata come vi abbiamo raccontato anche oggi pomeriggio questa mattina alle 11 con la conferenza stampa di Monti e poi è proseguita ma noi iniziamo subito a vedere il contenuto di quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio A priori, a priori, verificate tantissime condizioni, sì Non solo il manifesto annunciato molto più di un'agenda delle cose da fare e soprattutto dice da non distruggere Mario Monti smentisce le ultime quotazioni a mezzo stampa che lo davano orientato sul ripensamento, sul passo indietro al contrario in due ore di conferenza stampa e poi nel supplemento video da Lucia Annunziata si dichiara pronto per la politica pronto a candidarsi alla Premiership visto che in Parlamento c'è già come senatore a vita un sì condizionato però, un sì ma Se qualcuno pensasse che, come si dice nella navigazione che potesse essere una zattera no, non ho simpatia per quel tipo di cose avrei le mani e spero il cervello per decidere chi è credibile e chi no Il Premier, ora di missionario, manda messaggi insomma al variegato fronte centrista che ancora ieri si sentiva orfano del leader e temeva il no non amo i partiti personali, spiega nome nel simbolo vedremo ma è pronto a fare il punto di riferimento, a guidare sarebbe più utile per me stare fuori so che c'è un'alta probabilità di insuccesso ammette con un occhio ai sondaggi pubblicati nei giorni scorsi ma l'ambizione è esplicita, le modalità e i tempi molto meno di sicuro c'è la gerarchia degli avversari e il primo è Silvio Berlusconi Devo dire che talora faccio fatica a seguire la linearità del suo pensiero È sferzante Monti con il suo predecessore i repentini mutamenti da Montiano ad Antimontiano l'offerta del ruolo di federatore dei moderati dopo averlo sfiduciato l'inserimento del conflitto di interessi nell'agenda le critiche al PDL sulla giustizia la replica, le accuse di Berlusconi e anche di Tremonti di essere troppo prono rispetto alla Merkel e infine l'avvertimento sull'Imu chi la toglie poi dovrà rimetterla raddoppiata Non è vero, aggiunge, che Berlusconi era ascoltato in Europa attacca il Premier che sottolinea quanto invece sia stato ascoltato lui con il PD i toni sono diversi apprezzamento per Bersani salvo poi criticare la CGL e il suo alleato di sinistra Nichi Vendola, un vero conservatore Ha detto di me recentemente che sono un liberale conservatore liberale sì conservatore sotto molti profili io penso che sia lui Insomma, Monti sembra scommettere su una scomposizione del bipolarismo non più destra contro sinistra, dice ma Europa è volontà di cambiamento come discriminante l'obiettivo è attrarre voti moderati dal PDL e dal PD citazioni di De Gasperi tanto per rimarcare la collocazione in zona PPE e la società civile per sottolineare la diversità dai partiti criticati per le riforme mancate bacino alternativo per costruire la sua offerta Se io volessi restare nel mondo della politica e delle istituzioni Saprebbe come farlo, certamente No, ma non prendere nessuna iniziativa sarebbe il modo più tranquillo per avere forse qualche altra occasione istituzionale Allora, queste le parole di Monti in due situazioni lo avete sentito prima alla conferenza stampa di fine anno e subito dopo praticamente al programma di Lucia annunziata poco dopo ha parlato Silvio Berlusconi sempre in Rai, ospite di Giletti poi lo ha fatto di nuovo nel corso del pomeriggio e ha cercato di rispondere a quanto detto da Monti agli attacchi anche fatti Prevedo l'assoluta impossibilità di collaborazione dopo le affermazioni di Monti di quest'oggi Alle sedi della sera Berlusconi furioso per gli attacchi di Monti organizza una sorta di conferenza stampa per Tg e contrattacca un senatore a vita non dovrebbe stare in campo Andare a utilizzare questa carica che era una carica sopra le parti per essere invece protagonista nel contrasto elettorale ecco, credo che sarebbe una cosa addirittura immorale Immorale lo stesso aggettivo utilizzato da Massimo D'Alema non capisco lo sbigottimento del professore attacca il mio comportamento in stato lineare, ripete gli ho chiesto di federari moderati perché era l'unico che poteva farlo ma che l'umore sia nero e che la campagna elettorale ora sarà durissima lo dimostra l'ospitata pomeridiana all'arena di Massimo Giletti su Rai 1 con il cavaliere a un passo dal bis di quanto accadde anni fa con l'uscita annunziata Se lei mi interrompe me ne vado No, dottore Io la saluto e me ne vado Non si può parlare così di una cosa importante Siamo in un periodo elettorale Se lei non consente al leader di quella che voi dite sia l'opposizione di spiegare pianamente agli elettori che ci ascoltano come stanno le cose è inutile che io venga qui in una trasmissione come la sua Allora, io rimango se lei mi fa parlare Se non mi fa parlare la saluto e me ne vado No, ma Presidente Vuole che me ne vada? No, ci mancherebbe E allora mi lascio a finire La lascio a finire E' la quarta volta che mi interrompe Ma cerchiamo anche di dare risposta a Franco perché lei prima ha dato una cosa Allora, diamo prima la spiegazione agli elettori e agli ascoltatori sulla domanda prima che lei mi ha fatto Allora, lei mi ha fatto una domanda sul Presidente Monti e non mi ha lasciato rispondere Allora, mi lasci Me ne vado? Presidente Vuole che me ne vada? Non creo problemi Me ne vado Non si può ragionare così Lei sta facendo una cosa di disinformazione che non le rende onore No, io cerco la risposta Mi siedo per l'ultima volta Va bene Allora, la prossima volta mi alzo e me ne vado Va bene Allora, Presidente però è giusto anche dialogare No Berlusconi resta con una battutaccia sull'incubo di un governo con dentro ancora Monti Sì, c'era Mi lasci ricordare Ingroia la giustizia C'era Di Pietro alla cultura C'era Aspetti, aspetti Ah no, Fini aveva le fogne Ma ora con Monti in campo e moderati tutti con lui il PDL rischia di restare nell'angolo anche se Berlusconi non teme nessuna fuga dalla barca Non mi risulta, dice Anche se da Frattini, Cazzola, Mantovani sono già arrivate dichiarazioni di sostegno all'agenda del Premier al quale Berlusconi dedica un ultimo gelido pensiero Guardi, è umanamente gradevole ma è un professore e non è mai stato nella trincea del lavoro non è mai stato protagonista dell'economia Di errori in questo governo tecnico ne ha fatti troppi Allora, poi c'è naturalmente da vedere come ha reagito il partito democratico ma è un partito democratico che ha scelto un'alleanza con Vendola e Monti oggi non ha avuto parole tenere per Vendola ha detto di fatto che la formazione che fa riferimento a lui di fatto è una formazione che ha bloccato per esempio o vorrebbe bloccare conservatrice la definita la riforma del lavoro Bersani ha accolto con favore naturalmente le parole di Monti alcune linee della sua agenda però ha detto che bisognerà vedere meglio quali sono i contenuti Bersani prende atto che Monti non è più il tecnico da sostenere ma un attore in campo ascolteremo con grande attenzione e rispetto le sue proposte dove coincideranno con le nostre e dove se ne allontaneranno spiega quanto alle prospettive politiche la parola da domani passerà agli italiani serve una maggioranza politica vera e coerente la linea di Bersani non più strana ma europeista e riformatrice ci tiene a precisare collocandosi nel recinto internazionale a pieno titolo siamo stati leali al Premier ma adesso è il momento del cambiamento certo non passa inosservata la differenza di trattamento rispetto al PDL ma gli eventuali punti di contatto verranno considerati dopo se il voto non restituirà un quadro politico chiaro specialmente al Senato adesso l'obiettivo è un altro Bersani dato per favorito nella corsa per Palazzo Chigi vuole giocare la sua partita fino in fondo nonostante i sassolini che oggi Monti ha messo sulla sua strada invitando i montiani del PD nel suo cantiere mettendo in mora l'alleanza con Vendola che si è autocollocato fuori dall'agenda Monti un nervo scoperto di Bersani che ha costruito il suo recente tour europeo proprio per superare le diffidenze internazionali sulla sua coalizione e tranquillizzare circa la sua continuità con le politiche dei tecnici argomento spinoso che rinfocola il dibattito interno rialzano la testa quanti vorrebbero fuori selle dialogo aperto con i centristi la risposta di Vendola non si fa attendere vorrei rassicurare Monti nessuno intende tornare indietro anzi bisogna andare avanti i diritti non sono un segno di un mondo arcaico non si può impedire ai progressisti di governare ma qualcosa nella pancia del PD si muove era già con un piede fuorichino il gius lavorista renziano che oggi lancia un provocatore ultimato un Mabersani o io o Fassina gesto isolato o punta dell'iceberg per ora danno l'addio quattro parlamentari eletti nelle liste del partito democratico come l'ormai ex Dubaldo vicino a Fioroni sono proprio gli ex popolari quelli considerati più in sofferenza anche per questione di posti i montiani doc per ora non sembrano tentati dall'addio meglio orientare dall'interno la linea PD direzione centro a proposito di PD c'è la dichiarazione di Ichino che dice sono pronto a collaborare per il successo di una lista Monti e anche a guidarla in Lombardia se mi verrà chiesto così appunto Pietro Ichino in una dichiarazione di poco fa Ichino che poche ore fa praticamente ieri aveva dichiarato di non voler correre per le primarie del partito democratico poi c'è quel centro c'erano le reazioni dei centristi che erano molto attese naturalmente oggi per loro e da loro dipende molto di quello che accadrà nei prossimi giorni Montezemolo ha detto accogliamo con favore le parole del presidente del consiglio e anche Casini ha parlato di serietà e poi anche un riferimento a quel progetto di coinvolgimento per la società civile parlerò con Monti e farò ciò che serve le parole di Montezemolo rimbombano nella zona finora più frammentata del quadro politico quella di centro rilanciata oggi ufficialmente da un Monti pronto a fare da magnete per calamitare ma anche in qualche modo a filtrare e selezionare nuove adesioni nella lista ispirata alla sua agenda tra le voci provenienti dall'area montiana quella di Montezemolo merita un posto di rilievo tra le varie altre cose ex presidente di Confindustria presidente della Ferrari fondatore di Italia Futura e firmatario del manifesto verso la terza repubblica un profilo che pare intonarsi a perfezione con quello delineato da Monti non politici professionali aveva detto ma esperti e società civile quanto ai contenuti Montezemolo aveva già dichiarato di condividere del discorso di Monti tutto parola per parola tessendone elogi che si vanno a unire a quelli dei vari Riccardi l'ex ministro che parla di Monti statista internazionale e di Oliveiro appena dimessosi da presidente delle Acli che ha indicato così l'obiettivo comune di costruire l'unità dei riformisti ma insieme a quelle tecniche tra le reazioni della zona mediana come da aspettativa ad attrito zero vanno registrate anche quelle politiche ne arrivano favorevoli dai malpancisti del PDL come l'ex ministro Frattini che ha già annunciato sosterrò l'agenda Monti oltre che da quello che tempo fa andava sotto il nome di terzo polo segnatamente di Fini e Casini e se quest'ultimo ai microfoni del TG3 resta sul generico c'è lo spazio per una grande aggregazione si limita a dire senza scendere in dettagli da Fini oltre al sostegno convinto e senza riservi al programma Monti arriva anche l'infuocata risposta alle parole di Berlusconi meglio essere il suo inco buonotturno dice piuttosto che complice nel trattare l'Italia come bottino da spartire o bordello parole invece molto dure di critica al governo e a quanto detto da Monti sono arrivate dalla Lega la Lega che ha parlato per bocca di Calderoli di un governo Monti che è stato un cancro per questo paese e sono state definite metastasi tutte le forze politiche che lo hanno sostenuto così ha parlato Calderoli mentre Maroni è tornato ad attaccare sull'Imu e sulle tasse sulla pressione fiscale lo spettacolo in tv della politica spezzatino Roberto Maroni se l'è visto dal salotto di casa Varese due partite lo interessavano per la sua classifica quella di Monti prima e di Berlusconi poi il posticipo di D'Alema da Fazio conta di sicuro si vedrà ma è meno vincolante per il futuro del suo campionato aspettava il segretario della Lega chiarezza sul ruolo nei prossimi mesi del professore il nemico numero uno del nuovo carroccio ma non arriva e non appena si parla di Imu parte il primo tweet dal Varesotto Monti vuole mantenere l'Imu e continuare a tartassare imprese e famiglie del nord mai con Monti mai con la sua agenda da pompe funebri già la padagna questa mattina era chiara sul Maroni pensiero dopo 13 mesi di M riprendiamoci la democrazia e per virare dal doppio senso volgare al macabro il governo di missionario viene bollato esecutivo Frankenstein il peggior governo di sempre viene chiamato e il secondo a fondo del segretario candidato governatore della Lombardia ancora a Imu nell'obiettivo Monti per favore non toccatemi Imu Monti difende la tassa più odiata e la sua scelta di mettere le mani nelle tasche degli italiani è e sarà il tema più caldo della campagna elettorale regionale il 75% del gettito della Lombardia deve rimanere nella regione che sente più che mai la recessione terzo tweet famiglie in crisi crescita sotto zero ed economia sempre peggio ma utili delle banche in crescita netta grazie Monti nei supplementari con luce annunziata parte l'ultimo commento a segnare la mancanza di chiarezza sul futuro politico del professore Monti non mi candido ma forse sì ha imparato da casini e dai democristiani più falsoni della prima repubblica prima il nord fine dei commenti non un fiato sullo spettacolo di Berlusconi da Giletti nessuna chiosa sulla performance del Cavaliere sicuro che prima o poi il corteggiamento a Maroni andrà in porto un abbraccio necessario per avere voti percentuali e vincere in Lombardia entrare in zona Champions alle politiche dove si voterà ancora con il Porcellum targato Calderoli oggi rientrato sulla scena con i toni di sempre con questa nota non commento Monti perché poi dovrei confessarmi il governo Monti è stato un cancro e i partiti che lo hanno sostenuto e lo sosterranno rappresentano le sue metastasi e non è un pensiero diciamo così un mistero scusate il pensiero di Beppe Grillo che d'altra parte sono mesi che ripete il suo giudizio su Monti e anche su molti esponenti politici un Beppe Grillo che è già in campagna elettorale sentiamo che cosa ha detto tempi stretti per raccogliere le firme hanno paura di noi ci fanno votare a febbraio perché c'è la neve ma siamo la seconda forza del paese forse la prima tra ironia e toni trionfali continua il tour di Grillo verso il Parlamento in un solo giorno dalla Puglia gli appennini d'Abruzzo per finire in Umbria con palco e banchetti per il firma Dei affoggia portato in carrozza ironizza su Monti il suo possibile impegno in politica si è sfiduciato da solo tra tre giorni non sapremo più chi è dice scende in campo ma il campo non c'è più avvasso rilancia Schifani e altri hanno detto che rischiamo di arrivare all'80% hanno paura di noi e fa una piccola apertura rispetto a Dictat anti-tv non ce l'ho con le interviste dice ai candidati ma preparatele bene usate la televisione ma lasciate stare i talk show perché sono trappole lasciateli a questi morti viventi moriranno con i loro mezzi tv e sul suo blog attacca Montecitorio stiamo arrivando la cramera scrive è il grand hotel Italia dove tra buvette camerieri poltrono ottocentesche bronzi scaloni arazzi mobili rococò c'è chi va chi viene e quasi tutti restano in questo posto sconsagrato della democrazia occupato dai nuovi proci scrive Grillo entreremo a fine febbraio dal portone principale così scrive Grillo ma come vi dicevo all'inizio nella conferenza stampa di Monti questa mattina c'è stato un passaggio dedicato anche ai sindacati con parole particolarmente nette e chiare di Monti nei confronti di un sindacato della CGL successe a Cernobbio al forum di confcommercio era marzo per Mario Monti e Susanna Camusso fu scelto un tavolo in vetrina vista lago e soprattutto a uso e consumo di telecamere e fotografi parlarono risero anche le immagini è vero sono un po' confuse quindi ecco la foto inequivocabile marketing del dialogo che fissa l'istante allora fece dire a tutti che si poteva aprire una fase nuova nei tempi roventi della riforma del lavoro ma non è andata così e oggi oltre a Berlusconi se un altro bersaglio distinguibile delle sortite di Monti c'è stato è sicuramente la CGL il professore polemizza con chi pensa di difendere il lavoro attraverso un arroccamento e la tutela di interessi validi nel passato ma ora anacronistici non fa nomi ma l'identikit è chiaro la CGL che dice no che recalcitra rifiuta diserta i tavoli e protesta secondo Monti non fa il bene dei lavoratori è solo di poche ore fa la visita alla Fiat di Melfi a braccetto con Marchionne il manager che pensa all'americana e ha tenuto per primo a battesimo un accordo aziendale senza la FIOM la CGL delle Tute Blu evento che la leader del sindacato di Corsa Italia ha bollato come spot elettorale così come oggi oltre a polemizzare sull'assenza nel discorso fiume di riferimenti a lavoratori e famiglie in difficoltà ricorda che il sindacato è un soggetto di rappresentanza sociale e deve interloquire con la politica argomento per la centrale tant'è che sempre in quella Cernobbio di marzo che sembrò così strana e speciale fece discutere anche un fuori onda non si sente benissimo ma questo è il passaggio in cui il segretario CGL insiste sul fatto che il Parlamento non può essere impermeabile alla vita sociale del paese e la loro premier ammette che è bene che non lo sia nove mesi dopo la statistica rende la disoccupazione l'urgenza delle urgenze e la cronaca ha raccontato già di vari pasticci sugli esodati e di un accordo sulla produttività che ha lasciato fuori per l'ennesima volta il sindacato che una volta veniva definito rosso e che ora secondo Monti dovrebbe rivedere la sua linea un messaggio rivolto anche a Bersani e qualcuno già parla di ricerca del riformismo sostenibile il dibattito si scaldò molto ai tempi della difficile digestione dell'articolo 18 ma creò va detto solo divisioni ma come motivo e adesso ci occupiamo invece di un'altra pagina che in qualche maniera però riguarda sempre il lavoro fatto da questo governo la voce spending review il taglio delle spese dei costi troppo elevati in questo caso nel mondo della sanità capitolo sanità del Lazio ci dovevano essere grossi cambiamenti ma c'è stato un ricorso e quindi evidentemente si blocca tutto è una semplice siringa come tante un oggetto di uso quotidiano a fare una ricerca anche veloce su internet si trovano offerte come questa 7 euro un pacco da 100 cioè 7 centesimi l'una ma non per certi amministratori delle asle italiane che sono stati capaci anche di pagare una siringa una sola ben 65 centesimi e questo anche se almeno ci si immagina dovrebbero essere i primi in grado di spuntare buoni prezzi visto il volume degli acquisti era per mettere fine a queste onerose stranezze chiamiamole così che era cominciata una spending review delle forniture mediche alle asle e non l'aveva cominciata il governo Monti ma il governo Berlusconi che il 15 luglio del 2011 aveva previsto un osservatorio sui prezzi della sanità così nel luglio scorso l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici aveva potuto pubblicare i prezzi target ai quali buoni amministratori avrebbero dovuto attenersi nei loro acquisti e il governo dei tecnici aveva stabilito che tutti i contratti superiori del 20% a quel target avrebbero dovuto essere rinegoziati per consentire allo Stato di risparmiare tutta questa lunga premessa per dire che adesso è tornato tutto come prima insomma al prezzo selvaggio perché c'era da aspettarselo che le lobby farmaceutiche non avrebbero assistito con le mani in mano a provvedimenti che rischiavano di tagliare di molto gli utili e così era partita la raffica dei ricorsi i primi sono stati respinti sì le aziende venivano danneggiate economicamente ma in nome del supremo interesse dello Stato e quindi dei cittadini a pagare il meno possibile attrezzature assolutamente equivalenti ma ora la terza sezione del Tar del Lazio ha rimesso tutto in discussione accogliendo i ricorsi di un altro gruppo di aziende del settore e cancellando la tabella con i prezzi target i risparmi previsti quindi vanno a farsi benedire e non erano da poco si calcola anzi si calcolava di recuperare un miliardo di euro che adesso vanno in fumo e l'ammazzata arriva in un settore primario che è già stato oggetto di tagli pesanti per dirla con le parole pronunciate l'altro ieri dal ministro Balduzzi il definanziamento della sanità è arrivato a un livello molto vicino al massimo possibile bisognerà vedere adesso da dove dovrà saltare fuori il miliardo svanito nel nulla adesso invece andiamo all'estero perché c'è stato un nuovo massacro in Siria decine di civili 94 quindi più di 90 secondo gli attivisti sono rimasti uccisi da un bombardamento aereo mentre facevano la fila per comprare il pane immagini girate pochi istanti dopo l'attacco dell'aviazione siriana immagini di tanti corpi oramai senza vita i comitati anti Assad che hanno subito diffuso in rete lo scempo di Al-Faia parlano di almeno 90 vittime brandelli e resti umani sono visibili a 200 metri dall'edificio lì davanti al forno cittadino c'erano poco meno di mille persone ad attendere la distribuzione del pane un lusso dopo mesi di assedio della città siriana liberata lo scorso 18 dicembre dalla guerriglia ribelle in queste scene la risposta del regime siamo nella provincia di Hama nord ovest della Siria una delle roccaforti della ribellione contro Bashar Assad sin dai primi giorni del conflitto quello di oggi è forse lo spettacolo di sangue e morte più cruento e raccapricciante tra i tanti arrivati negli ultimi 20 mesi dalla guerra civile in corso in Siria alcune immagini non sono davvero proponibili l'esplosione avvenuta davanti al forno ha letteralmente prodotto cumuli di corpi ammassati l'uno sull'altro poco distanti dall'ingresso del piccolo palazzetto per terra o sui mezzi di soccorso improvvisati corpi di ogni età e sesso ci sono donne anziane ragazzi i testimoni dicono anche molti bambini un uomo scruta ancora il cielo cercando i caccia dell'aviazione un altro porta via a spalla una donna ancora viva immagini che non passeranno inosservate in molte cancellerie straniere solo poche ore prima quasi a voler distrarre l'attenzione forse da quello che sarebbe accaduto a Damasco è con dare in scena la conferenza stampa del ministro dell'informazione Omran Al-Zubi l'uomo con voce concitata evidentemente nervoso mette in dubbio che il suo esercito possegga armi chimiche e dice anche se fosse non le useremo mai contro il nostro popolo contro i civili in fila per il pane meglio delle normali bombe provenienti dal cielo fanno rumore ma meno impressione all'estero almeno dei gas letali allora noi adesso ci fermiamo però già vi preannuncio che tra poco a Inonda sarà ospite Angelino Alfano il segretario del PDL quindi evidentemente si parlerà ancora di questa lunga giornata di quello che ha detto Monti e delle risposte di Berlusconi ci fermiamo allora ancora dichiarazioni di Berlusconi che chiude le porte praticamente di fatto a Monti e dice appunto che c'è un'impossibilità assoluta di collaborazione dopo le affermazioni di Monti fatte oggi e tra poco naturalmente si continuerà a parlare ancora di questo perché da Luca Telese e Nicola Porro e ospite Angelino Alfano il segretario del PDL arrivederci